Tanti auguri a te, tanti auguri a Bruno, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. non ci crederebbe mai, io questa la racconta mio figlio, la raccontano i miei nipoti, guarda io non ho mai testato a comprare, non sono nulla a comprare, però è stata una cosa davvero bella, che meraviglioso. Ascoltami, voglio fare una cosa, adesso provocare i piettini e tu porterai un pezzo di torta a tutti. Ma come ho fatto oggi con le paste? Va bene? Certamente, vado. Perfetto. Guarda. Grazie.